Carissimi amici e amiche, bentornati per una nuova puntata del Catechismo di San Pio X. Siamo giunti al numero 21. Siamo nella sezione dedicata alla vita morale, chiamiamola così, cristiana, che segue la trattazione del credo. Abbiamo già visto i Dieci Comandamenti e i Cinque Presetti Generali della Chiesa nella puntata precedente. E adesso, se Dio vuole, questa sera cominceremo una bellissima trattazione sulle virtù che, vedremo, il Catechismo di San Pio X, a mio avviso, affronta in maniera greggia e, tra l'altro, oltremodo completa. Perché dopo aver enumerato e distinte le virtù, vedremo, c'è anche una sezione dedicata all'esercizio delle virtù e poi chiude con una sezione dedicata alle virtù morali, cominciando dalle virtù cardinali e con qualche accenno anche alle passioni, ai vizi, gli opposti. Concludendo poi, addirittura, con le beatitudini. Un discorso veramente meraviglioso, sintetico, come sempre, vedremo assolutamente chiaro con quella virtù che aveva questo Catechismo, evidentemente per volontà di chi l'ha composto, di avere questa duplice caratteristica chiarezza e concisione. Che sono le cose importanti perché queste cose siano ritenute. Attenzione che il ritenere, faccio una piccola premessa, le verità di fede, così come sintetizzate nel Catechismo, non è un'operazione, come dire, meccanica. Catechismo dice, ma che la fai a fa' tanto ti impari a memoria un po' di formulette, fai un po' di nozionismo che tanto non serve a niente, tanto la vita cristiana è un'altra cosa. Queste sono delle obiezioni abbastanza frequenti fatte oggi, per esempio, al Catechismo in esempio decimo, motivo per cui da molti ha ritenuto superato. Sapete che nessun Catechismo può dirsi in senso stretto superato. Non è che il Catechismo romano emanato in seguito al Concilio di Tirento è superato. No. Certamente ci sono degli stili e degli approcci differenti. Adesso, per esempio, nel nuovo Catechismo si è prediletto questo stile, come dire, ampio, ampolloso, tipico dell'età contemporanea, pensiamo, io ci sono cresciuto insieme, quindi se c'è un Papa che io me lo so visto dal primo all'ultimo giorno, in carica, senza stranizze, è stato Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II è stato Papa per 27 anni, dal 78, che io avevo 7 anni, al 2005, io ero un bambino, quando è diventato Papa, e l'ho nominato come Papa nelle prime messe che ho celebrato. Ho diventato prete nel 2004 e per un anno io ho nominato Giovanni Paolo. Ecco, i documenti chiaramente di Giovanni Paolo II sono sempre stati, come dire, un capolavoro di limpidezza dottrinale. Giovanni Paolo II non ha concesso assolutamente nulla, diciamo così, a cedimenti dottrinali o ambiguità dottrinali. Però i documenti di Giovanni Paolo II erano molto, molto prolissi, perché erano lunghi, 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 lunghi. Alla fine, dopo tutte le premesse, le cose, alla fine arrivava al sodo e ti diceva le cose come stanno. Però dentro questa impalcatura, tipica dello stile contemporaneo, ha i suoi pro, diciamo così, perché comunque attraverso un'articolazione molto approfondita, quindi uno sguardo, diciamo così, di apertura al possibile confronto, comparazione con altre posizioni. Ci sono delle cose positive. Certo, diventa poi un pochino complicato, tant'è vero che, per esempio, con un nuovo catechismo, Ratzinger, poi si è, come dire, inventato di realizzare un compendio che fosse più breve e che riprendesse però lo schema del catechismo di San Pio X. Botta risposta, domanda e risposta, perché con un catechismo, il catechismo della Chiesa Cattolica è bellissimo, però è un trattato veramente poliedrico di leggerlo tutto e soprattutto poi ritenere tutte quante quelle cose è praticamente impossibile e non è un fatto, ripeto, nozionistico, perché adesso vedremo, cioè se uno dice, ma che cos'è la fede? Quando è che tu fai un atto di fede? E tu lo devi sapere quando è che fai un atto di fede o quando invece hai fatto un atto di incredulità, perché i peccati contro la fede, per esempio, sono peccati mortali. Tu però lo devi sapere quando è che hai commesso un atto grave contro la fede. Se non l'esame di coscienza, sulla base di che cosa te lo fai? Sapete bene che la coscienza c'è sempre un ruolo fondamentale nella vita morale, ma la coscienza deve essere formata. E la coscienza si forma, non è che uno può studiarsi una persona normale, tutti quanti trattati di teologia morale, che non finiscono più, te la formi col catechismo. E più è breve e sintetico, a mio avviso, più aiuta quella comprensione essenziale che poi ti permette di vivere, di mettere in pratica e di sapere anche di discernere un atto buono da un atto non buono, no? La sezione dedicata alle virtù abbraccia diversi numeri dal 227 fino al 266, comprendendo però tutte le scursus che ho cercato di tratteggiare. Adesso ho già fatto troppe chiacchiere, cominciamo a leggere i numeri che sono sempre la cosa più importante e piano piano, come al solito, li commenteremo. La prima sezione, appunto, le virtù in generale e le virtù teologali, quindi la loro presentazione. Anzitutto, che cos'è la virtù? La virtù è una costante disposizione dell'anima a fare il bene. Qui rimando al ciclo di Carichesi, la sana dotte, no? Proprio sui vizi e le virtù, credo che l'ho fatto l'anno scorso, credo di sì, dove c'è un'ampia articolazione di questi discorsi. Riprendendo ovviamente in forma breve, cosa vuol dire costante disposizione? Noi la chiamiamo nel linguaggio comune abitudine, che in latino, appunto, si dice anche habitus. Tanto è vero che San Tommaso chiama le virtù abiti. Dice, ma come le virtù abiti? Noi quando sentiamo abiti, pensiamo ai vestiti che ci mettiamo addosso. Ma habitus, in latino, da cui deriva abitudine, no? Quando io ho un'abitudine, vuol dire che ripeto sempre delle stesse azioni, degli stessi comportamenti. Gli inglesi li chiamano gli stessi patterns, ok? Li ripeto in maniera regolare. Quindi, perché si possa parlare della virtù, vuol dire che c'è una disposizione, quando si dice in generale, dell'ania a fare il bene. Poi, chiaramente, le singole virtù sono di che tipo di bene si tratta. Ecco, ogni singola virtù, evidentemente, ha un aspetto di bene che focalizza e che quindi, attraverso gli atti di quella virtù, viene posto in essere, quindi viene praticato, esercitato. Ora, anzitutto, quante specie di virtù ci sono? Il Catechismo di San Pio Decio le distingue in due grandi categorie. Le virtù naturali che acquistiamo ripetendo atti buoni, come quelle che si dicono morali, e le virtù soprannaturali che non possiamo acquistare e nemmeno esercitare con le sue nostre forze, ma ci vengono date da Dio, e sono le virtù proprie del cristiano. Ora, le virtù morali, penso che tutti quanti noi sappiamo, sono state oggetto di meditazione, insegnamento e pratica da parte di tantissimi filosofi pagani. Tutti sanno che il grande cantore della virtù in Grecia è stato Socrate, ma poi Platone e Aristotele hanno, Aristotele addirittura ha scritto un'opera che è l'Etica Nicomachea, che è un capolavoro, da essa attinse largamente San Tommaso d'Aquino, nella sua presentazione delle virtù, e in particolare appunto delle virtù morali. In campo romano ci abbiamo, cito due su tutti, però ce ne sono molti altri, quindi non voglio assolutamente mancare di rispetto a grandi colossi della cultura, anche se pagani, Cicerone e Seneca, per esempio. Seneca sulle virtù ha scritto delle pagine sublimi, io devo andare a ritrovare chi dei miei fratelli si è impossessato delle lettere all'ucilio di Seneca, che mia madre da buona letterata aveva nella sua biblioteca, perché a me piacerebbe ogni tanto ridare un'occhiata alle lettere all'ucilio di Seneca, che pure sia un pagano, perché sono veramente bellissime, ci sono dei passaggi veramente spettacolari, il che fa comprendere, vedete, appunto, che queste sono virtù naturali, cioè possono essere comprese nella loro bellezza anche da un pagano, e possono essere acquisite anche da un pagano, perché per essere giusto, il senso della giustizia, pensate alle grandi tre massime su cui si fondava tutto il diritto romano, no? oneste vivere, alterum non ledere, essum cuique tribuere, non so, questa è una cosa abbastanza no, vivere onestamente, non ledere l'altro, e dare a ciascuno il suo, che è proprio il contenuto, la quidditas, il contenuto intrinseco della virtù cardinale della giustizia, giustizia significa dare a ciascuno il suo, come vedremo. Quindi c'è tuttanto questo mondo, e ci possono essere persone, anche laiche, come le chiamano oggi, che potrebbero essere, come dire, distinguersi in più, in una o più virtù naturali, morali, però poi ci sono quelle sopranaturali, che sono le più importanti, e queste non si possono acquisire, per queste c'è bisogno di una azione divina, che le infonde in noi, appunto come disposizioni stabili, certo poi noi dobbiamo esercitarle, perché se non si esercitano, voi sapete bene, l'abitudine, le buone abitudini si possono perdere, no? Se io ho acquisito una buona abitudine, certamente che significa? Che significa che il compimento degli atti, di quell'abitudine, una volta che ce l'ho, è un po' meno complicato, quindi, però, comunque, gli atti li devo compiere, se comincio a smetto, un giorno smetto, due giorni smetto, tre giorni smetto, una settimana smetto, un mese smetto, l'abitudine l'ho persa, ma così funziona in campo, in campo morale, voi pensate, dice, come mai, stanno ancora un 85% dei battezzati, quanta fede si vede in giro? Pochina, eppure quelli, hanno tutti quanti ricevuto l'infusione, della virtù teologale della fede, tutti, sono stati battezzati, e come mai che sta fede non si vede? perché non l'hanno esercitata, non l'hanno nutrita, non l'hanno alimentata, quindi, le virtù hanno questa caratteristica, diciamo così, di essere proprio intrinsecamente, per il fatto stesso di essere tali, potremmo chiamarle dinamiche, quindi, non è una cosa che tu hai, e dici, beh, come se ti compri un chilo di qualcosa, ma la so comprata, la so comprata la pistola, la sofferta un chilo, ce l'ho, sta lì, la uso o non la uso, quella lì sta, no, le virtù non stanno lì, le virtù se non le usi, addio, le perdi, ecco, ok, allora, quali sono le virtù proprie del cristiano, quali sarebbero queste virtù soprannaturali, numero 229, le virtù proprie del cristiano, sono le virtù soprannaturali, e specialmente la fede, la speranza e la carità, che chiamiamo teologali o divine, perché? Perché hanno Dio stesso per oggetto e per motivo, attraverso queste tre virtù, noi stiamo connessi a Dio, attraverso la fede, lo conosciamo, attraverso la speranza, lo desideriamo, attraverso la carità, lo amiamo, ora, 230, come riceviamo ed esercitiamo, noi le virtù soprannaturali? Noi riceviamo le virtù soprannaturali, insieme con la grazia, santificante, per mezzo dei sacramenti o per l'amore di carità, e le esercitiamo, con le grazie attuali, dei buoni pensieri, e delle ispirazioni, con cui Dio ci muove, e ci aiuta, in ogni atto buono, numero bellissimo e interessantissimo, allora, le virtù soprannaturali si ricevono insieme con la grazia santificante, cosa significa questo qui? Allora, la prima infusione di esse, delle virtù così come della grazia, sia col sacramento del battesimo, su questo non ci sono dubbi, ma ogni volta, che io, appunto, mi accosto a un sacramento, ecco perché è così importante, a questi sacramenti, soprattutto quelli che si possono ripetere, se io a quel sacramento mi accosto in maniera valida, lecita e fruttuosa, si registra un aumento, allora, questo dobbiamo mettercelo bene in testa, cioè, la grazia santificante e le stesse virtù, non sono una realtà, come dire, statica, vabbè, la fede o ce l'hai o non ce l'hai, non è così semplice, la carità o ce l'hai o non ce l'hai, non è così semplice, perché la fede può averne più o meno, la speranza può averne più o meno, la carità può averne più o meno, La dimostrazione non è tanto difficile, no? Arcangelo Gabriele, siamo alla chiusura del mese di maggio, come ha salutato la Madonna? La piena di grazia, traduciamo in greco, è la che carito meno, l'ho detto infinite volte. Cioè non è la piena di grazia, vuol dire, l'angelo ha detto, guarda che più grazia di quanta ce ne sta in te, non si potrebbe concepire. La faccio semplice per evitare di tutta la spiegazione eseggetica, ho dato 100 miliardi di volte su questa cosa qui, no? Quindi mica la Madonna c'era la stessa grazia santificante che c'ho io, assolutamente. Cioè ce n'aveva una percentuale, una quantità, come dire, infinitamente all'ennesima potenza superiore. Grande grazia che significa? Significa una santità più grande e ancora una gloria più grande, perché la Madonna è seconda soltanto a Dio, eh? Guardate che la Madonna è andata oltre gli angeli e gli arcangeli, guardate che non è facile andare oltre gli angeli e gli arcangeli, eh? Cioè, i più grandi santi tra gli esseri umani, vediamo un San Francesco, un Padre Pio, non è che possono competere con San Michele, ma neanche, non dico San Michele troppo alto, insomma, no? Ma neanche con gli angeli di, come dire, dei cori medio-bassi, non possono competere. La Madonna è andata al di sopra. Questo è importantissimo, figlioli miei cari, che ce l'abbiamo chiaro, perché questa misura, noi dobbiamo immaginare le oscillazioni, no? Oscillazioni che sono totalmente dipendenti dalle nostre scelte. La voglia di, ah, Padre, io prego a casa mia, cioè, quando noi ci confessiamo, perché si fa la confessione frequente? La confessione, dice il Magistero della Chiesa, non lo dico mica io, è un sacramento ordinato di per sé alla remissione dei peccati gravi. Per cui la confessione di per sé è necessaria in alcune circostanze ben specifiche. Una volta l'anno, l'abbiamo visto la volta scorsa, per legge della Chiesa. Prima, nell'approssimarsi della morte, per legge della Chiesa. Perché non si deve morire senza aver fatto la confessione, aver preso il viatico, per legge della Chiesa. Sono le due volte in cui sia la comunione che la confessione sono necessarie per la legge della Chiesa. Cioè, Pasqua, confessione e comunione, morte, confessione e comunione. Adesso ci sarai queste cose qui, eh. La confessione è anche necessaria se tu, volendoti accostare alla Santa Comunione, sai di essere in stato di peccato, pensi, sospetti, temi, o sai di essere caduto in un peccato mortale. Fuori di questi casi, la confessione non è necessaria, ma è caldamente raccomandata. Non è necessario in confessione dire i peccati veniali. Si possono non dire. Lo dico proprio, cioè, ma come tu stai sempre parlando della confessione? Di per sé, secondo la legge, si possono non dire, perché in confessione si devono dire i peccati mortali. Se non ti va di dire che hai detto le bugie di scusa, puoi non dirlo, senza fare peccato. Adesso non è una cosa buona non dirlo, ma è una cosa lecita. Se lo dici, meglio perché portare quella cosa in confessione, fare quell'atto di umiltà, dove tu scopri una piccola menda, quindi umiliandoti anche davanti al ministro di Dio, ti apre ad una grazia sacramentale ulteriore, grande. Ecco perché i maestri di spirito e i grandi evangelizzatori hanno sempre detto la confessione, il più frequente possibile. E molti hanno dato come regola a cui attenersi entro i famosi otto giorni, che sono quelli che poi, guarda caso, la Chiesa ha mutuato otto giorni. Quindi, sapete, se io devo prendere un'indulgenza plenaria che è legata alla confessione e alla comunione, tu sai, devi fare la confessione entro gli otto giorni, prima o dopo. Per esempio, supponiamo prima del mese. Quando è che posso fare la confessione prima del mese? O otto giorni prima o otto giorni dopo. Chiaramente otto giorni dopo solo se stai in grazia, perché siccome devi fare la comunione sacramentale, se non stai in grazia, vedete farlo prima, d'accordo? Se no, sono un problema. Però è fondamentale, oppure, come crescono le virtù soprannaturali? Per l'amore di carità. Ci avete mai pensato? Ogni volta che noi esercitiamo attenzione degli atti di amore di Dio, e quindi soprattutto, anche se non solo, attraverso la preghiera c'è chi la chiama di contemplazione, c'è chi la chiama profonda, c'è chi la chiama infusa, fate come vi pare. L'importante è che si capisca, e quando stiamo a cuore a cuore con Dio e ci immergiamo nel suo mondo, stacchiamo la spina, cominciano i dialoghi di amore intimi e personali con Lui. E che voi pensate che si esce da lì come si è entrati? Assolutamente no. C'è un'impennata di grazia non indifferente. Ecco perché sempre i maestri di spirito dicono un'ora di orazione mentale al giorno. Perché l'orazione mentale? Perché generalmente il cuore parte, diciamo così per farci capire, dopo che l'intelligenza e la volontà si sono soffermate a considerare alcuni soggetti di meditazione, che possono essere un soggetto di meditazione, un brano della scrittura, un brano dell'imitazione di Cristo, facciamo la mattina un brano del Libro di Cielo, quindi qualche cosa che ti coopta l'attenzione e dopo però lo fai tuo e a partire da lì cominci un dialogo, un dialogo che se tutto va bene si consuma nell'amore e nell'affetto. A questo tende la preghiera. Tant'è vero che Santa Teresa Davida ha dato alle istruzioni come tutti i maestri di spirito, stai a fare la meditazione, guarda che se ti parte il cuore abbandona il soggetto della meditazione e segui il cuore. Diciamo, no, non ho finito di meditare bene quel punto lì. Non ti preoccupare, lo metti un'altra volta. Perché se ti parte il cuore lo devi seguire. Perché la preghiera tende all'unione, l'unione si realizza attraverso l'amore. E l'amore di carità determina un aumento di grazia della carità stessa e delle altre virtù teologali. Oh, le virtù poi vanno esercitate. Oh, per esercitare gli atti di queste virtù non basta nemmeno la grazia santificante. Dice il catechismo, dice bene, ci vogliono le grazie attuali. Si distinguono due tipi di grazie nel trattato delle grazie. Scusate se sono un pochino tecnico, però... C'è la grazia santificante che è una disposizione stabile anche lei nell'anima, una cosa meravigliosa, che ti abilita a compiere tutti gli atti buoni e graditi a Dio. E tra l'altro, solo se stai in grazia, gli atti sono meritevoli davanti a Dio e del premio eterno. Quindi questa è una disposizione, è simile ad un abito, stabile. Ce l'hai, dopodiché la puoi perdere col peccato mortale, perché si perde col peccato mortale, si raffredda, diminuisce col peccato veniale, non cresce se tu fai un'imperfezione e invece cresce se tu fai qualunque atto di virtù o sacramenti, preghiere, eccetera. Ora però, per esercitare queste virtù non basta la grazia santificante, deve arrivare una grazia attuale, si chiama. Attuale deriva da atto, no? Quindi c'è il Signore che ti dà un'ispirazione che noi non percepiamo come tale, perché ci pensa che noi la percepiamo come un pensiero nostro, d'accordo? Ma non lo è. Mi trovo in una situazione difficile e mi abbandono a Dio, quindi faccio un atto di fede in Lui e quindi di abbandono, no? Quindi un cocktail di atti di fede e di speranza. L'ho fatto perché mi è venuta l'ispirazione, perché il Signore mi ha suggerito, non ne sappiamo tante cose, a volte lo fa Lui direttamente, a volte lo fa attraverso il nostro Angelo Custode, altre volte lo fa anche attraverso un'anima beata, magari un nostro familiare che ci sta vicino e ci dà una dritta, non lo vediamo, non lo percepiamo. Sono tanti i modi di cui si serve il nostro Signore, non li sappiamo. Quello che è certo è che per fare un atto di queste virtù ci vuole una mozione soprannaturale. perché noi siamo capaci di fare le opere che sono alla nostra portata, ma le opere soprannaturali le possiamo fare se Dio ci precede, ci accompagna e le compie. Ora, tra le virtù soprannaturali numero 231, qual è la più eccellente? Tra le virtù soprannaturali la più eccellente è la carità, perché è inseparabile dalla grazia santificante, ci unisce intimamente a Dio e al prossimo, ci muove alla perfetta osservanza della legge e a ogni opera buona e non ci esserà mai. In essa sta la perfezione cristiana. Quindi, l'amore di Dio, anzitutto, io tante volte ho insistito, perché quando si parla della virtù, teologare della carità, che veramente è qualche cosa di stupendo, di ineffabilmente bello, non bisogna mai, come purtroppo sovente capita, pensare che la carità sia semplicemente l'amore del prossimo, addirittura confonderlo con qualche gesto addirittura di elemosi, o con qualche opera di misericordia. Certo, quelle sono espressioni della virtù, e del locale della carità, ma anzitutto sono un'espressione secondaria, perché il primo precetto della carità è l'amore di Dio con tutto il cuore, con tutta l'amore, con tutte le forze. E quindi la carità ti unisce enteamente a Dio, evidentemente anche al prossimo, perché come scrive San Paolo, se non ricordo male, la carità non fa alcun male al prossimo. pieno compimento della legge è l'amore. Se c'ho la carità, sicuramente io al prossimo non l'ammazzo, non gli rubo, non gli manco di rispetto con l'impurità, non vado con la moglie di un altro, non mento per riguardo del prossimo, non inganno. E poi si arriva anche alle forme più alte di carità, perdono le offese, prego per chi mi tratta male, per chi mi calunnia, per chi mi perseguita, amo chi mi fa del male, quindi gli faccio del bene potendolo fare anche a chi mi ha fatto del male, eccetera. Bene, adesso il Catechismo fa un focus sulle singole virtù teologali, comincia da questo anzitutto e cominciamo quindi a dargli un'occhiata. Che cos'è la fede? 232 La fede è quella virtù soprannaturale per cui crediamo sull'autorità di Dio, ciò che egli ci ha rivelato e ci propone a credere per mezzo della Santa Chiesa. Oh, vi dico subito, avete sentito questa definizione, se uno la vuole ricordare, basta che faccia come spero tutti facciamo, devo farlo pure io, le preghiere del mattino e della sera dove al loro interno e se non ce l'avete il libretto ma cercate l'online, ci sono l'atto di fede, l'atto di speranza e l'atto di carità. In italiano o in latino? In italiano è proprio che mio Dio perché se è verità infallibile credo tutto ciò che ci ha rivelato e che la Santa Chiesa ci propone a credere. esattamente cioè si mette in atto quindi si fa propria professandola la definizione della fede come virtù e quindi fare l'atto di fede ogni volta che io faccio un atto di fede quindi recito l'atto di fede per questo che la Chiesa ce lo fa recitare tu non te ne accorgi ma la tua fede aumenta un po' matematico d'accordo? Ora 233 ciò che Dio ha rivelato e ci propone a credere per mezzo della Chiesa dove si conserva? La risposta è che ciò che Dio ha rivelato e ci propone a credere per mezzo della Chiesa si conserva nella Sacra Scrittura e nella tradizione è ovviamente con la T maiuscola tradizione con la T maiuscola vedremo poi che cos'è no? quindi che cos'è la Sacra Scrittura? dice il 234 la Sacra Scrittura è la raccolta dei libri scritti per ispirazione di Dio nel Vecchio e nel Nuovo Testamento e ricevuti dalla Chiesa come opera di Dio stesso è chiaro che la Sacra Scrittura è la fonte assolutamente primaria della rivelazione perché tutto ciò che caratterizza la fede lo abbiamo da lì cioè per esempio che Dio è uno è trino noi lo sappiamo dalla Sacra Scrittura in maniera proprio chiarissima anche se nella Sacra Scrittura tanto per combattere i fondamentalisti biblici il termine Trinità non si trova mai però è inequivocabile che Dio è uno è trino che Gesù Cristo è il figlio di Dio è inequivocabile seguendo la Sacra Scrittura che Gesù Cristo per esempio ha fondato la Chiesa e in essa ha dato l'autorità agli apostoli e il primato a Pietro è inequivocabile sulla base dei Vangeli eccetera che esiste l'inferno è inequivocabile sulla base della Sacra Scrittura così come il Paradiso così come la risurrezione della carne così come un solo battesimo basti pensare tutte le lettere di San Paolo il concepimento virginale di Gesù tutte le cose quindi è chiaro che la fonte primaria basilare è la Sacra Scrittura e la tradizione con la T maiuscola cos'è la tradizione è l'insegnamento di Gesù Cristo e degli apostoli fatto a viva voce e dalla Chiesa trasmesso a noi fino a noi senza alterazione per ragioni di ovvia correttezza e completezza devo dire che su questa definizione di tradizione la teologia contemporanea ha espresso mi avviso più di qualche volta in maniera assai opinabile diverse riserve il concetto tradizionale mi si perdono il termine però di tradizione era proprio questo cioè la Sacra Scrittura contiene il corpo delle verità scritte la tradizione contiene il corpo di una serie di verità tramandate oralmente custodite nella Chiesa come opere di Dio stesso e trasmessi a noi senza alterazione ora chi può con autorità farci conoscere interamente nel vero senso le verità contenute nella scrittura e nella tradizione e qui evidentemente si sta alludendo anche se non viene nominato il Magistero la Chiesa sola può con autorità farci conoscere interamente e nel vero senso le verità contenute nella Sacra Scrittura e nella tradizione perché a lei sola Dio affidò il deposito della fede e mandò lo Spirito Santo e continuamente l'assiste affinché non erri abbiamo celebrato qualche giorno fa la solennità di Pentecoste anticamente c'era anche l'ottava di Pentecoste quindi la festa si prolungava per altri otto giorni come l'ottava di Pasqua appunto per far comprendere quanto è importante perché lo Spirito Santo non è soltanto l'inizio della missione pubblica della Chiesa ma è anche quella presenza stabile della terza persona della Santissima dell'Italia che consente alla Chiesa di comprendere bene il deposito della fede custodirlo e trasmetterlo immutato invariato di generazione in generazione 237 basta credere in generale le verità rivelate da Dio vabbè io ci credo punto e basta risposta è non basta credere in generale le verità rivelate da Dio ma alcune cioè l'esistenza di Dio rimuneratore e i due misteri principali si debbano credere anche con espresso atto di fede avete mai sentita questa espressione l'esistenza di Dio rimuneratore è una cosa facilissima che cos'è la rimunerazione da munus no rimunus cioè tu hai fatto una fatica e io te la pago questa è la rimunerazione ma la rimunerazione è anche tu hai fatto un guaio e il guaio lo paghi perché se hai fatto una cosa buona ti pago io se hai fatto un guaio paghi tu queste cose Dio le esige quindi che esiste un Dio che premia il bene e castiga il male deve essere oggetto di atto di fede esplicito non lo so quante persone oggi hanno fatto questo atto di fede esplicito dato che a quanto pare la maggioranza della gente pensa che Dio rimuneratore non esiste esiste soltanto un Dio vagamente misericordioso a cui gli sta bene tutto e qualunque cosa fai si se fai qualcosa di buono è più contento ma se fai qualcosa di cattivo non fa niente perché ti perdona e alla fine bonus per tutti se è politico per tutti e tutti quanti in paradiso questo non è mai stato insegnato nella tradizione della chiesa mai e i due misteri principali della nostra fede quali sono qui sarebbe interessante con le dirette adesso ci sono in questo momento 136 persone in diretta non so quante persone vedranno questo video però prima che lo dico facciamo così sia a chi sta in diretta che in differita tu gli sapresti dire i due misteri principali della fede quali sono dovremmo saperli io ai ragazzini del Catechismo vi faccio una capatanta dicono a Napoli e se li devono imparare a memoria il primo l'unità e la trinità di Dio il secondo l'incarnazione e la passione e la morte e la risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo unico Salvatore questi segni per chi non lo sapesse questi misteri scusate ogni volta che ci facciamo il segno della croce abbiamo la possibilità al volo di rievocarli perché? perché in azione della croce noi nominiamo il Padre il Figlio e lo Spirito Santo che è un solo Dio ma tracciamo un segno di croce perché era il segno di croce perché sulla croce c'era dentro il Figlio di Dio non solo col segno di croce rinnoviamo anche l'atto di carità perché diciamo mettendo la mano sulla fronte amera il Signore di Dio con tutta la mente con tutto il cuore sul petto e con tutte le forze spalla sinistra e spalla destra e quindi tanta roba il segno della croce amici cari è un qualche cosa di sportentoso di fenomenale tanti segni di croce dovremmo fare al giorno un tempo anche durante la vita liturgica della Chiesa le benedizioni i segni di croce ce ne erano a Iosa adesso ce ne sono molti di meno io mi sono sempre chiesto dico ma sta moda te toglie tutti sti segni di croce io non voglio fare sempre il criticone ma che male ti fanno a che ti danno fastidio che è un problema che male c'è a fare il segno di croce in più male nessuno grazie a sempre tanta la croce è il segno dinanzi a cui i demoni fuggono quindi più si fa meglio è e con questo abbiamo terminato la fede andiamo a vedere la speranza sulla speranza ci sono soltanto due numeri che cos'è la speranza atto di speranza se qualcuno di voi lo fa tutti i giorni già sulla base dell'atto di speranza può definire la virtù teleogale della speranza perché la speranza è quella virtù soprannaturale per cui confidiamo in Dio e da Lui aspettiamo la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla qua giù con le buone opere vedete se noi facciamo l'atto di speranza dice mio Dio spero dalla tua bontà per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore la vita eterna perché la speranza ho detto prima che trasferisci i nostri desideri in Dio perché quella virtù per mezzo della quale noi attendiamo la vita eterna la attendiamo non vediamola ora dice San Paolo parlando di questa virtù se siete risorti con Cristo pensate alle cose di lassù cercate le cose di lassù non quelle della terra noi siamo già morti nella nostra vita e nascosta con Cristo in Dio dice dice io vorrei lasciare questo corpo che è la mia abitazione dice però sono convinto che siccome per voi è bene che rimanga ancora che rimanga ancora mi dobbiamo restare un altro po' i santi però rimanevano sulla terra come dire ho torto collo o perché dice Dio vuole che non ho finito la mia missione e devo rimanere ancora qua oppure ma ha fatto troppi peccati quindi Dio mi dà un pochino di tempo di purificarli in altro po' e di recuperare un po' di atti di virtù ma se a te ti dicessero stanotte se muore ma tu che dici a parte il fatto che noi come dice Giuliano Evangelo tenersi sempre pronti per il ritorno del padrone cioè noi la sera dobbiamo andare a dormire che se non ci svegliamo la mattina dopo certo il paradiso per direttissima è un po' difficile il purgatorio toccherà passero ma se una persona ci sta provando a vivere una vita cristiana e fa anche un pochino di vita penitenziale anche piccola oggi è il 30 maggio tra due ore scadono i fioretti del mese di maggio per chi l'ha fatta perché poi al 31 è festa quindi si stappano le bottiglie sono piccoli fioretti però vedete che i piccoli fioretti è la nostra parentesi eh ve l'assicuro non solo per l'esperienza personale ma anche del po' a volte costa più fa un piccolo fioretto che ti dà un fastidio che tu magari in quel momento diciamo voglio proprio una caramella hai detto no le caramelle no ma quello che ti piglia proprio ma ma quanto mi va ma è una stupidaggia è una caramella no ci credete che può essere meno complicato fare un digiuno che non rinuncia a una caramella per cui ho fatto il fioretto vi assicuro che è così ma una caramella eh la caramella allora aspettiamo la vita eterna noi la sera quando andiamo a dormire oh non sto scherzando eh uno dovrebbe fare un bel avete visto quando i calciatori segnano e vai cioè alza i pugni e dice oh è passato un giorno c'è un giorno di meno c'è un giorno di meno guardate che la speranza è una virtù c'è chi dice e a mio avviso dice bene che se una persona è vissuta in questo modo quindi che non vede l'ora da andare in paradiso è contenta dice mamma mia cioè e ci lavora sopra rischia tra virgolette che non fasse il purgatorio cioè se queste tre virtù fede, speranza e carità fossero vissute come Dio comanda e qualche speranza di ridurre i propri minimi termini il purgatorio penso che ci stia qualche speranza a proposito di speranza quindi aspettiamo la vita aspettiamo la vita eterna non vediamo l'ora non siamo stati fatti per la vita eterna disse la Madonna a Santa Bernadette su Birù dove andremo se Dio vuole se state a trovarla voi non siete stati fatti per la vita eterna per la vita eterna ma per il cielo non vi ho creati per la vita eterna ma per il cielo non ti ho promesso di darti la perfetta felicità in questo mondo ma nell'altro certo su uno che ha un po' santa mente qui c'è un anticipo ma non è mai la beatitudine del paradiso no? speranza amici miei cari no speranza purtroppo sta virtù fammi sta zitto che è meglio ma esercitiamo la virtù teologale della speranza insieme alla vita eterna io mi aspetto da Dio le grazie necessarie per meritarla perché non si va in paradiso senza averlo meritato guarda cioè se tu dici la tua speranza tutta la mattina se non si compiono le buone opere in paradiso non si va chiaro? vi ricordate le parabole evangeliche degli invitati al nozzo quello non c'era la veste enuziale dice e tu che stai a fare qua? tu non puoi stare mica qua senza la veste enuziale la veste bianca e poi in base al principio che la Bibbia si interpreta con la Bibbia va a aprire il libro dell'Avocalisse dice questi stanno in bianche vesti davanti all'agnello e c'era nota le opere le vesti bianche sono le opere giuste dei santi se no in paradiso non ci si va non ci si va in paradiso senza le opere buone e siccome per compiere le opere buone ci vogliono le grazie la grazia santificante pure le grazie attuali come abbiamo visto spesso quelle sopranaturali io spero che il Signore se vede che deciderà andare in paradiso e voglio impegnarmi mi darà tutte le grazie necessarie per poterlo fare e io mi presenterò con un autotreno di opere buone al suo cospetto e cerchiamo di farlo il più possibile ogni giorno e per quale modio speriamo da Dio dice il numero 239 la vita eterna e le grazie necessarie per meditarla perché egli infinitamente buono e fedele ce le ha promesse per i meriti di Gesù Cristo mio Dio spero dalla tua bontà infinitamente buono per i meriti di Gesù Cristo per le tue promesse ce le ha promesso e per i meriti di Gesù Cristo lo sta dicendo la vita eterna grazie perciò chi diffida o dispera chi diffida chi non confida cioè o si dispera l'offende sommamente vai a lui la disperazione della salvezza è uno dei sei peccati contro lo spirito santo è è grave e concludiamo il nostro incontro di oggi la nostra conversazione di oggi con la virtù cardina teologale della carità 2.40 che cos'è la carità? la carità è quella virtù soprannaturale per cui amiamo Dio per se stesso e sopra ogni cosa è il prossimo come noi medesimi per amore di Dio guardate bisogna farci un quadretto questa cosa qui Dio si ama per se stesso l'unico che si può amare per se stesso anche il prossimo noi lo amiamo per Dio in che senso? numero uno il prossimo fosse pure la persona più bella più intelligente più santa di questa terra ma perché è bella intelligente e santa perché? perché Dio l'ha fatta bella intelligente e santa ogni ente creato niente escluso è un piccolo capolavoro dell'altissimo per cui per carità tu puoi contemplare quella bellezza creata ma mai disgiungendola da chi l'ha fatta e quando la creatura diventasse sgradevole la ami per amore del Signore perché rimane comunque sua creatura possiamo amare qualunque creatura sopra ogni cosa posso amare mio padre sopra ogni cosa mia madre sopra ogni cosa ma la facciamo pure un pochino più difficile il vescovo sopra ogni cosa il papa sopra ogni cosa un santo sopra ogni cosa no no Dio si ama sopra ogni cosa è solo lui il prossimo lo amiamo come noi medesimi non sopra ogni cosa e lo amiamo appunto per amore di Dio come 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 già detto l'ho già spiegato in che senso per amore di Dio perché vedo in lui una manifestazione della bellezza della santità della bontà di Dio in paradiso sarà così ora perché dobbiamo amare Dio numero 241 perché dobbiamo amare Dio dobbiamo amare Dio per se stesso come il sommo bene e fonte di ogni nostro bene e perciò dobbiamo anche amarlo sopra ogni cosa con tutto il cuore con tutta l'anima con tutta la mente e con tutte le forze quelle bellissime parole scritte in quel cantico di San Francesco tu sei il bene tutto il bene il sommo bene Dio è questo cioè una persona che bestemmia ma se potesse se potesse vedere proprio non è inqualificabile dire che che cosa sia una bestemmia Dio il male non lo fa non è buono a farlo Dio non è buono a fare qualcosa non è buono a farlo il male può fare tutto tranne il male si legge nel Catechismo Onnipotente quindi cioè ingiuriare Dio che si ingiuriano le persone cattive che fanno il male è proprio una pazzia assoluta ma proprio una pazzia assoluta Dio è sommamente amabile è come con tutto il cuore con tutta l'anima con tutta la mente questo è un gioco di Marco che ha citato che fa una che fa una distinzione con tutto il cuore con tutta la mente con tutte le forze l'anima e la mente alludendo un pochino alla distinzione tra la parte inferiore e la parte superiore quindi con tutte quante le tue energie affettive emotive e anche con quelle superiori la mente quindi con le tue facoltà spirituali con l'intelligenza con la volontà con tutte le forze anche fisiche con tutte le energie e con tutto il cuore quindi col fior fiore come il primo grande innamorato e perché dobbiamo amare il prossimo 242 dobbiamo amare il prossimo per amore di Dio che ce lo comanda e perché ogni uomo è creato ad immagine di Dio come noi ed è il nostro fratello vedete qui usa il termine fratello in senso ampio ogni uomo è creato ad immagine di Dio come noi ed è quindi il nostro fratello ci sono due modi di intendere la filiazione divina e quindi la cosiddetta fratellanza c'è un modo ampio quindi fondato sul diritto naturale Dio è creatore di tutti e quindi è in senso ampio padre di tutti perché tutti vengono da lui e quindi tutti sono fratelli il senso stretto è il senso forte Dio è padre di coloro che rende figli di adozione nel figlio attraverso il battesimo e quindi la più stretta fratellanza è quella consistente tra quelli che nel battesimo sono rinati è per questo che nella liturgia pregate fratelli pregate fratelli pregate fratelli adesso che c'è la par condicio che stanno fratelli e sorelle eccetera cioè il modo con cui quello si dice nella liturgia è diverso dalla fratellanza universale perché fa riferimento al senso forte al senso stretto e infine e così finiamo anche noi diciamo siamo obbligati ad amare anche i nostri nemici siamo obbligati ad amare anche i nostri nemici figlioli perdonando le offese attenzione qualunque cosa ti abbiano fatto prima ancora che abbiano prima di parla il perdono è già dato perdono non significa che uno non senta il dolore o che non soffra per esempio a vedere chi ti ha fatto del male o che preferisci non vederlo no questo non è non aver perdonato perdonare rinunciare a vendicarsi rinunciare al rancore pregare per quella persona chiedere anche al signore che non lo punisca per quello che ha fatto lo punirà ma tu chiedi che non lo punisca punto prima perché sono anch'essi i nostri prossimi poi perché Gesù ce l'ha fatto espresso comando l'ha detto nel Vangelo a voi che ascoltate io vi dico amate i vostri nemici e fate del bene a coloro che vi odiano pregate per i vostri persecutori e per quelli che vi maltrattano e vi caluniano non ci abbiamo alternative perché gli insegnamenti e gli esempi di nostro signore dobbiamo metterli in pratica bene amici io metterei punto perché la prossima volta cominciamo il capitolo la seconda sezione che è dedicata all'esercizio delle virtù e poi chiaramente l'ultima cioè le virtù morale e i vizi e le beatitudini evangeliche una santa notte a tutti Dio vi benedica e la santa vergine sempre vi protegga grazie a tutti